In questo video voglio spiegarti perché dovresti cominciare ad utilizzare YouTube per caricare i video e creare il tuo canale di successo. Come prima cosa sono sulla pagina di YouTube Creators, quindi YouTube per i creativi, ovvero quel sito dedicato a tutti i creatori di contenuti che caricano i loro video su YouTube. Teniamo in considerazione il fatto che ad oggi YouTube è il secondo motore di ricerca al mondo ed è relativamente poco sfruttato. Se infatti esistono miliardi di siti internet e chiunque si apre un blog come prima cosa per provare a fare soldi con internet, sono in poche le persone, rispetto chiaramente a quelli che provano la strada del blog, che aprono un canale su YouTube e cominciano a fare dei video, caricare questi video e sfruttano la potenza dei video. Quindi YouTube oggi è una grande opportunità a mio avviso per le aziende, per i blogger e per i privati che vogliono promuovere i loro beni, servizi o se stessi, quindi fare personal branding tramite YouTube. Come vedi all'interno di YouTube Creators viene spiegato come iniziare, c'è una sezione di formazione, la community e l'assistenza. Altro vantaggio di utilizzare YouTube è quello relativo al traffico proveniente da YouTube, ovvero ci sono molte persone che cercano video, tutorial e contenuti su YouTube e che vogliono trovare risposte e magari guardare nuovi contenuti, oppure saperne di più su un prodotto, un servizio, guardando una videorecensione. Creando contenuti di questo genere non solo potrai trovare traffico per il tuo sito internet, ma potrai anche portare nuovi contenuti e portare le persone a conoscere il tuo brand, la tua azienda o quello che puoi offrire. E poi ancora, grazie ai video puoi risolvere dei problemi che magari sono più complicati da risolvere in un articolo, quindi al posto di scrivere un articolo fai un video tutorial di qualche minuto e spieghi effettivamente come risolvere un determinato problema. Ricorda chiaramente che devi sempre metterti nei panni dei tuoi utenti e cercare di capire come i tuoi utenti cercano e vedono il tuo contenuto, quindi se davvero avranno un contenuto di valore. Poi, prima di realizzare il tuo video, ti consiglio anche di fare una piccola ricerca e vedere quelli che sono i 5 risultati di ricerca che trovi o fare 5 ricerche differenti per capire se effettivamente l'argomento che vuoi trattare è stato affrontato e in che modo. E poi ancora fai una lista dei suggerimenti che YouTube ti dà quando vai a cercare qualche termine all'interno del motore di ricerca. Ricorda, oltre alla qualità del video che deve essere ottima, di creare anche una descrizione efficace con le giuste parole chiave e inserirle sia nel titolo, sia nella descrizione, sia nella base dei tag. YouTube ha cambiato infatti nel 2014 il suo algoritmo e lo basa oggi sul tempo di visualizzazione di un video, non solamente sul numero di visualizzazioni ottenute. Se fai caso e fai qualche ricerca su YouTube puoi vedere come effettivamente YouTube abbia cambiato questi risultati di ricerca ed oggi è possibile vedere dei video con meno visualizzazioni nei primi posti dei risultati di ricerca di YouTube e video con più visualizzazioni subito sotto. Come creare quindi contenuti di qualità? Intanto ti consiglio di visitare appunto la parte di YouTube dedicata ai creators, quindi ai creatori di contenuti e poi ricorda di creare video specifici e focalizzati su un singolo argomento. Creare video brevi, quindi molte delle persone che guardano video su YouTube non guardano video più lunghi di 5 minuti. Ecco perché anche su questo canale troverai tanti video e tante pillole che durano davvero pochi minuti. E poi vai dritto al punto e crea dei tutorial passo passo efficaci oppure dai suggerimenti e consigli utili in maniera chiara, semplice e diretta per i tuoi lettori. Ricorda di essere sempre entusiasta quando parli o quando registri un video specialmente se fai uno screencast come quello che stai vedendo perché l'agente non vuole guardare video monotoni di persone che danno informazioni in stile robot. E poi ancora trasforma sempre le visualizzazioni che ottieni in leads quindi ricorda di invogliare gli utenti a iscriversi al canale di mettere un pollice in su o di contattarti tramite link in descrizione e quindi portarli sul tuo sito internet oppure chiedere loro di fare qualcosa come acquistare un prodotto, scaricare una guida e iscriversi ad una newsletter. Infine ricorda che ci sono anche altri strumenti come le annotazioni che possono essere inserite all'inizio o alla fine di un video per non disturbare gli utenti e portarli a compiere un'azione oppure ancora puoi mostrare le annotazioni anche per il 20% rispetto alla durata totale del video e puoi anche inserire una call to action alla fine del video. Spero che questo breve video in cui ti ho detto perché io consiglio di aprire un canale di YouTube ti sia stato utile come sempre puoi lasciare i tuoi commenti qui sotto oppure iscriverti al canale e mettere il pollice in su se il video ti è piaciuto.